Il Ruccio è un'azienda bloccata, come sono solito dire è un'azienda tetraparetica spastica, nel senso che ha un cervello funzionante che è il manager Longo, il quale oltre ad essere riconoscitore delle dinamiche regionali di gestione della sanità è anche molto attento a quelli che dovrebbero essere dei percorsi condivisibili e condivisi per migliorare l'organizzazione e dei servizi, ma dall'altra parte c'è un corpus amministrativo immobile, accartocciato in un burocratismo idiota ed ottuso, non è più possibile che un'azienda così importante e così complessa possa essere gestita da questi burocrati che sono incapaci di interpretare il nuovo, di modificare gli assetti organizzativi in funzione dei bisogni della gente, ma fondamentalmente sono incapaci di dare risposte alla comunità di riferimento, intesa sia in quella cittadina ma fondamentalmente in quella di tutti i lavoratori che dalla mattina alla sera si dedicano con una benedicazione e dedizione al lavoro per tentare di mantenere elevati i livelli di qualità delle prestazioni. Noi a Cava di Remi abbiamo abbastanza criticità, ci sentiamo un po' il braccio munco del Ruggi d'Aragona chiaramente, perché siamo un po' iniziati ad abbandono, criticità che sono praticamente mancanza di personale perché la quota 100 ci ha dato una grossa difficoltà, quindi l'entrante non riesce a sopperire all'uscente che era già in una condizione critica. Ricordiamo gli OSS, abbiamo grossi problemi per il pronto soccorso dal punto di vista medico e chirurgico, siamo ad oggi non abbiamo rinforzi, quindi ci sono grosse difficoltà, sono medici che si sovraccaricano di turni. Questo riguarda anche il personale infermeristico, ricordiamo che abbiamo bisogno di unità perché l'ospedale va avanti per la buona volontà di tutto il personale, che il quale oggi ringrazio apertamente e con il cuore per la benegazione che questi danno. Ricordo ancora, sarebbe il caso che il Ruggi d'Aragona e quindi la direzione ponesse mano, ricordo che praticamente le carenze infermeristiche sono principalmente per il blocco operatorio, perché se non si va avanti con le sedute per mancanza di personale l'utenza ne pagherà con l'allungamento delle liste e quindi l'utenza ci chiede la motivazione. E poi praticamente abbiamo bisogno di altro personale come supporto tecnico e quant'altro. Noi speriamo che il Ruggi d'Aragona e che l'azienda capisca che abbia praticamente dei satelliti che siamo noi e non se ne dimentichi. Noi denunciamo a Mercato Sanseverino la carenza di OSS che abbiamo fatto tante richieste a Ruggi e l'azienda risponde con un OSS nel reparto centralino dove i numeri del personale già è soddisfacente e fanno il loro lavoro nei migliori dei modi. Il pronto soccorso che da tempo è finito e non apre non danno la possibilità agli operatori del pronto soccorso dove attualmente lavorano in modo pietoso a contatto con i degenti, tante di quelle cose. La situazione dei negrofoghi che in questo momento anche grazie a loro, agli operatori che svolgono questo ruolo lo fanno eccellentemente però mal organizzato e tante altre cose che ancora a Sanseverino dobbiamo avere però l'azienda è sempre in silenzio e non dà mai una risposta. Criticità all'ospedale di Salerno, di che si tratta? Praticamente dopo un periodo di relazioni con l'azienda si è venuta a mancare di tante situazioni e che praticamente c'è mancanza di organizzazione, non c'è un piano industriale, un piano aziendale, non c'è una piramide gerarchica a livello del sitra dell'azienda ospedale di Salerno e ci sono purtroppo carenze d'organico dove purtroppo vengono spostati da una parte all'altra operatori ma alla fine la coperta è sempre corta e i colleghi sono carenti in tante situazioni e soprattutto sono sovrastressati dal lavoro. La cosa più inquietante è che non vengono rinnovati gli istituti contrattuali come sono stati fatti nell'ultimo triennio 2016-2018, cioè indennità che spettano e non vengono pagate, indennità decentrate istituite anni fa che non vengono erogate operatori tecnici, sanitari e amministrativi. Quindi diciamo un disastro.